In un momento in cui l'intero comparto automotive si trova in una fase di profonda trasformazione e crisi, risulta fondamentale un forte sostegno per garantire la competitività del settore, la difesa dell'occupazione e l'innovazione tecnologica, indispensabili per affrontare le sfide del futuro. Si ignora così un intero settore e le richieste di oltre 20.000 lavoratori che lo scorso 18 ottobre hanno partecipato allo sciopero nazionale e alla manifestazione di Roma per chiedere un supporto concreto. Questa mobilitazione, anziché trovare ascolto e una risposta positiva, è stata seguita da un provvedimento che va nella direzione opposta a quella auspicata, mettendo a rischio il futuro di migliaia di famiglie e la sopravvivenza di una filiera strategica per il Paese. Lo dichiarano i segretari generali di FIM, CISL, Ferdinando Uliano, di FIOM, CGL, Michele De Palma e di Wilm, Rocco Palombella. Innanzitutto abbiamo bisogno di un incontro serio con il governo che a sua volta si faccia carichi in Europa di capire tempi e modalità di questa transizione perché al momento questa transizione non è guidata, viene lasciata al caso e purtroppo chi ci sta rimettendo in questo momento sono i lavoratori. Ed è per questo che le sigle sindacali chiedono a gran voce un incontro chiarificatore alla presidenza del Consiglio dei Ministri. La situazione è peggiorata ed è molto grave. È notizia di ieri che il governo italiano non sappiamo sulla base di quali informazioni abbia deciso di tagliare questi fondi in maniera importante. Dei 5 miliardi e 8 ne tagliano la bellezza di 4 miliardi e 8, lasciando un settore in fortissima difficoltà. Soprattutto in un momento molto delicato, sempre ieri in Germania Volkswagen dichiara la chiusura di tre fabbriche. Quindi momento delicatissimo, abbiamo bisogno di incontrare urgentemente la presenza del Consiglio perché dal tavolo automotive nell'ultimo anno non si è portato a casa nulla. Anzi, della famosa promessa del Ministro Urso di un milione di vetture l'anno da produrre in Italia, quest'anno chiudiamo con un meno 40% costruendo solo 240 mila vetture.